Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Entriamo nel vivo per quanto riguarda i rinnovi di Theo Hernandez e Mike. Per quanto riguarda il portiere sembra disposto ad accettare l'offerta fatta da Furlani. Fonseca nei prossimi giorni proverà a mettersi in contatto con il portiere, visto che è impegnato con la nazionale francese, per ribalirgli la sua stima. Per quanto riguarda Theo Hernandez resta il Milan, parola di Ibrahimovic. Con o senza rinnovo, infatti l'idea sarebbe quella di arrivare a Fenestati senza rinnovo del calciatore. Soltanto un'offerta tra gli 80 e i 90 milioni potrebbero far cambiare le carte in tavola, ma per il momento nessun club si è avvicinato a tale quota. In questi giorni ci sono stati dei nuovi contatti tra il Manchester e Zizze. Sembra che il club inglese non abbia alcun problema nel pagare la clausola da 40 milioni. Sebbene l'occasione di Zizze dunque sembra che stia sfumando, si avvicina invece quella col nome di Morata. L'unico problema riguarda il fatto che il giocatore vorrebbe la titolarità, mentre invece il Milan vorrebbe fare un altro acquisto per quanto riguarda il ruolo dell'attacco. Domani inizia ufficialmente il raduno dei rossoneri e noi vi ricordiamo che alle 11 si terrà la conferenza stampa del nuovo mister. Queste sono tutte quante le nostre notizie e io come al solito vi invito a venirci a seguire su tutti quanti i nostri social per tutte le altre novità. Grazie. Grazie.